Eccoci qua! Questo qui dovrebbe essere il sesto, settimo episodio, non lo so quale, qual è l'episodio di GTA, però oggi andiamo avanti con la storia di GTA, che dovrebbe essere una delle storie più belle in assoluto, che mi sta prendendo, è molto affascinante, a parte il fatto che mi avete consigliato tutti quanti sui commenti di seguire i dialoghi, altrimenti non ci capisco niente, zero del gioco, ecco. E oggi però, vediamo un po' che succede, che succederà. Allora, signori consigliatemi, che devo fare, la L come storia? Facciamo la L o andiamo da T? Quale facciamo di storia? Ditemi voi, io seguo le vostre indicazioni. Ho le secondarie, non voglio, voglio fare solo le principali, anche perché poi dopo la rifaccio, la storia la voglio rifare, però stavolta in una versione diversa, con la chat, che con le donazioni possono spawnare cose. Eccolo, ciao Roberto, sei un grande! Mamma mia, perché lagga il menù? Avete detto che è normale che lagga? Non lo so perché, il menù lagga? Ma lagga pure pesantemente, lagga, eh? Se metti il V-Sync non lagga più, eh, ma il V-Sync non mi piace come roba. Oh, grazie mille! Grazie, Giovanni! Ciao, bello, grazie mille! Come stai? Grazie mille, un bacione! Ciao, Giovanni! Grande! Strano, Andrew Gamer! Eh, non lo so! Non lo so, vabbè, comunque sti cazzi, andiamo avanti. Non è normale che lagga il menù, solo il menù me lagga. Ma da quando ho installato GTA, eh? Non è che è da sempre che me lagga. Porca troia, chi dè? Oh! Ma che te prendesse una cacarella di quelle a fischio che ci rimane attaccato sull'ucesso! Grazie, Jack Squirella! Come stai? Ciao, bellissimo, un bacione! Grazie a tutti delle sub, signori, grazie! Allora, vi ricordo che siamo in live pure su TikTok, Twitch, YouTube, dappertutto, signori! Tutte le piattaforme! Tutte quante! Spingi, vai, oh! E spingo, sì, spingo! Vabbè! Che fa questa? Ah, questa qua che era una... No, che fa? La super di questo! Ok! È figa sta cosa della super, così almeno non devi morire ogni volta! Fai certe curve... Dalla madonna! Recuperi certe curve assurde! È figa! Eh, se no... È un casino qua, muori tipo... Centomila volte, muori! Ok, ci siamo! Vediamo un po' che roba è! Uno shop? Ah, ci sta... Ah! Un telefono pubblico! Ah, che stronzo! Taccagni? Ebbè, lo mazziamo! Ok, quindi bisogna prendere un'acquisizione! Acquisizione di qualcosa, non ho capito! Cioè, io... Io l'ho letto il dialogo, ma non ho capito! Non ho ben... L'acquisizione di cosa? Sta tipo su un autobus, no? C'è un autobus, non ho capito! Vabbè, andiamo là, andiamo a vedere, e ora lo scopriremo! L'hai modificata, che roba? Natural Vision Evolver si chiama, sì! È bella, vi piace? Su YouTube si vede meglio dopo, quando... Quando lo ricarico il VOD! Si vedrà meglio! Tre milioni di volte, poi si vedrà meglio! Voglia! Ebbè! Su YouTube è... Qualcosa di incredibile! Poi, quando registro il 50.000 bitrate... 25.000 in realtà, perché 50.000 non serve niente! Però... Si vede bene! Poi con la pioggia, sì, sì, voglia la pioggia! Anche i rumori! Anche i rumori, ragazzi, è... Anche i rumori si sentono bene! Ok, abbiamo l'autobus! I rumori delle pistole ho modificato! Ok! Bisogna prendere l'autobus, giusto? Ah, sì! Bisogna localizzare il bersaglio! Ok! Ma quindi questo bersaglio non è tipo... Non mi può dire dove abita, no! Bisogna andarlo a cercare! Andiamo! Sì, sì! Ciao, belli! Ah, ok! Qua bisogna... Ah, bisogna... Ma scusa! Un ultramiliardario prende l'autobus? Ma un multimiliardario prende... Un multimiliardario prende l'autobus? E che cazzo è? Elon Musk! No, Elon Musk non prende l'autobus! Però già... Abita in una casa... Proprio piccoletta! Infatti... A me piace come vive! Che pure a me piace vivere sui posti piccoli! Auguri, Valerio! Non c'è! Non c'hanno facce da miliardari! Io fisso laptop... No, no, no! PC fisso, ovvio! No, no! Io c'ho un PC... All'epoca lo pagai 4.800 euro! Adesso costa di meno, però! Spero che in altri 2-3 anni me lo fassi, PC! Ah, ok! Ciao, Bali! Passo con il rosso, ovviamente! Ma che ho bevuto? E stai zitto? Oddio! Persone che scorreggiano dentro l'autobus! Ma vaffanculo! Magna del ubicello! Eccolo, eccolo! Questo c'ha proprio la faccia da ricco! Bisogna correre adesso! Che c'ho vuole? Ok, scendo dall'autobus e mo' devo scappà? E che c'ho vuole ammazzarlo? Che devo scappà con la macchina? Oddio, come faccio a scappar via? Non c'ho una macchina, non c'ho! Come faccio? Io spacco il vetro, entra e scappa! Scappa via! Ah, per fortuna una stella sola, vabbè! Una stella sola fa ride! Una stella sola fa ride a scappare! Ok! Ovviamente vengono pure dentro il tunnel qua dentro! Ma dove devo andare per nascondermi? Io devo studiarmi tipo qualche... Ah, che cazzo era? Due stelle! Perché due stelle? Io devo studiarmi qualche posto dove... Dove nascondermi! Sennò qua non ce la faccio mai! Non ce la farò mai! Ok! Vabbè, noi scappiamo via a mezzo alle montagne! Qua è nato strada, via! Ah, due stelle ogni volta che mi ritrova... Poi... È così che funziona? Quindi ogni volta che mi ritrova... Aumentare una stella? Ma che merda è? Testa di minchia, guarda! E su, elevati! Polizia di merda! Eh, però io c'ho la carretta come macchina! C'ho una carretta! Ma come faccio a scappar via da questi? Questi qua... Porca troia! Voi vede che non ce la faccio! Scappar via! Ah, mo' me nascondo qua sotto! Ah, qua sicuro che non me trovano, dai! Dai, se me trovano qua sotto so bastardi, dai! Come si fa a spegne con H? Dai, qua sotto non possono vedermi! Impossibile! Dai, qua sotto non me trovano! Ma chi cazzo me trova qua? Posso fare il ladro nella vita reale? Ok, lei sta... Vai! Abbiamo... Vai! Mission completa! Torniamo dall'Ester! Ok! 31%! E tu pensa! Torniamo... No, sì, torno dall'Ester! D'omattina! Torniamo dall'Ester domattina! Come sa che devo aspettar? Tutti questi punti interrogativi che sono? Missioni secondarie? Però... Non capisco un po'. T? C'è la T? T però col punto interrogativo! La T col punto interrogativo, eh! Tornia! Ma questa non era la moglie de... Non era questo! Era la moglie... Tornia non è la moglie de Michael? Se non mi ricordo male! Ma sì, Rude! Tu basta che me... M'hai fatto una piccola lista, lui, Rude? Delle parole che scrivono? Anche le varianti, le vari varianti... Così almeno le metto sulla... Quello di prima, prima di scrivere la bestemmia, l'ha scritta di poco con i numeri gerogrifici per scriverla. Quindi ci sei impegnato proprio per scrivere la bestemmia. Oddio, attento! Ok, dritto per dritto, signori! Che meraviglia! Dio santo! Piano! Non ho fatto cena ancora. Lo faccio dopo GTA. Attenti, attenti. Ok. Qua a destra tra poco. No, non è a destra tra poco, è a destra dopo. Eh, scusami signori. A destra qua. Oh, finora non ho fallito... Cioè, no, qualche missione l'ho fallita, però non sembra così difficile. Ehi! Che vuoi? Vediamo un po' che vuole questa. E questa mi sa che non se la va. Ehi, se going Vinewood means I ain't hittin' a pipe like 1992, then shit, I'm guilty as charged. Hunk ass. What? Bitch ass. Excuse me? Look, I'm sorry. But where's your love for the hood? JB ain't doin' good. He needs help. We need your help, nigga. We gon' lose everything. All right. Shit. What do I gotta do? Same as before, boo. A little help with the tow truck. Nothin' for a real man like you. All right. You just get yourself together. Your ass done went crazy. Esatto. E quindi che bisogna fare? Non ho cap... Ma non spiega. Sono andato a lei perché? Mi aveva chiamato? Mi aveva chiamato? La storia? No, 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 no. Ah, questa già l'avevamo fatta una missione con... No, aspetta, ma questa è... Ma questa è secondaria, signori. Ma questa è una missione secondaria, eh. Ma non lo so perché ho caricato una donna. Ma questa già l'avevo fatta col carattrezzi, no? Mamma mia. Eh, lo so, Gibo. So pochi o so tanti. Non lo so, dimmelo tu. A me vanno bene così, onestamente. Che me magno per cena. Non lo so. Dopo vado a cucinare qualcosa, vedo. Oh, come non è un lavoro, perdone. A parte 12-10 anni fa. Ok, piano piano. Come un pensiero, che sa? Piano piano stai, torna su. Ma non me ne frega un cazzo a me, signori, degli spectra. Ne posso fare 300, 200. Non me ne frega niente. Non volete capire? Io vado avanti per la strada mia. Basta di sti cazzo di spectra, signori. Allora, sì, parcheggiate su, sul posto degli handicappati, porca miseria. Dei disabili. Vabbè. Anticappati nel senso, non nel senso offensivo. Non nel senso offensivo, signori. Però chiedo scusa per chi... Ok, mo tiriamo su. Questo lo devo tirare su, giusto? Ok, sì. Non lo so, rude, perché non ti fa bannare. Boh. Non lo so. Ma sì, ma mi dissocio pure io, mi dissocio. Non era in maniera offensiva. Assolutamente. Seminanista? Oddio, 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 oddio. Ok. Eh, me so sbagliato, me so sbagliato e gli sono andato addosso, cazzo. Non è mai sceso in realtà. Solo tempo... Nel tempo ha solo avuto più spectra. Esatto, sì. Ma non è vero che sono sceso dagli spettatori, ragazzi. Cioè, non... È inutile di cazzate così, di questo tipo. Ho sempre avuto sti numeri. A meno che è un periodo dove facevo, appunto, giochi più... Più di tendenza. Tipo, che cazzo ne so. E a parte la quarantena. La quarantena, eh. Quando, ragazzi, facevo... Quando sono sotto quarantena... O zona gialla, o quello che era... Carca troia. Ma se uno si basa su quelli... È la fine. Vieni per il moto H, ok. Sì, ma questa missione... Io già l'avevo fatta, questa. Tranquillo, Gabriele. Eh, basta che scrivi. Allora, andiamo a vedere. E adesso che devo fare? Sì, però, basta ste missioni di merda. Ma chi è? Ah, ok. Sto rispondendo, amica. Eeeh... Ma non mi interessano a me i numeri, ragazzi. Allora. Cioè, interessano più a voi che a me. È incredibile. Vabbè. E magari devo ignorare certi commenti. Allora. Dicevamo. Cambiamo personaggio? Perché qua... Dei missioni non ne vedo. Questa non è una missione. Che devo fare? Boh, cambio messo un personaggio e aspetto. Credo, non lo so, eh. Missioni del merda come queste. Mi vengono fuori. Aspettiamo... Ah, Trevor, dite? Mettiamo Trevor. Mettiamo... Oh, ecco, 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 ecco. Mettiamo... Questo che ha fatto? Non lo so. Mettiamo Trevor, dai. Quello sotto chi è che non ho mai messo io? Chi era quello sotto? Guarda, 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 guarda. Porca troia! Che fai a Trevor e gli fai il cucito? Oddio! Oddio! Gli ho tirato una... Oddio! Oddio, ragazzi! Arvolo proprio! Ahahahah! Che capocciata! È il tuffo del matador! Che cazzo di capocciata che gli ha tirato? Che capocciata! Avete visto? Che capocciata! Oh, grazie a te, Gabriele! Ciao, bello! Ok, ok, rude, va bene, perfetto. Allora, dove devo andare adesso? Qua ancora non ci sono missioni. Ah, sì, ce le abbiamo! Martin Madrazzo! Martin Madrazzo! Però che ci abbiamo sti cazzo di sbirri dietro? Che palle ogni volta! Oddio! Scusatemi! Scusate! Ok, via, andiamo! Qua non ci abbiamo la super? Eh no, mentre guidiamo no. E quindi niente, qua devo stare attendo perché... MZ! MZ, sì, sì! Andiamo dritto. Ciao, Teo! Facciamo un po' di zig-zag qua. Oddio, 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 oddio. Attenzione, attenzione, attenzione! Oh! E facetemi passare, porca Eva! Desio, penso di aver capito qual è il problema. Se non si disconnette... Il problema allora era dovuto al telefono di casa. Che gli dà interferenze al modem. Infatti adesso l'ho tolto. E penso che andava bene... Che va bene. Quindi... Oh, vediamo! Ma potevano essere pure i server di Twitch, eh? Però strano. No, no, i server non può essere perché... Che dà problemi di server di Twitch o YouTube con demoragnamente? E The Geek? Non lo so. Vabbè, nel dubbio io comunque ho... Contattato la team. Adesso me ne danno un ONT nuovo. ONT nuovo. Per il Freaks. Sarebbe una specie di scheda. Così tu puoi utilizzare il modem quello tuo che c'hai privato. Almeno uso quello. E nessuno mi caga il cazzo poi. Ma te non c'hai lo Shada? Ma cos'è lo Shada? Perché non mi ricordo. Le missioni online? Guarda, non so neanche... Non sapevo neanche l'esistenza delle missioni online, onestamente. Quindi... Non lo so. No, no, ma... Non lo scalda, non lo scalda il Freaks. No, non c'ho mai avuto problemi. Ce l'ho sempre usato. Questa qua è la villa dove ci stavano i mafiosi sul suo RP. Questa è la villa dove ci stavano i mafiosi. Guarda un po' che bella fontana. Eh, l'acqua solo che la potevano fare un po'... Un po' meglio, vabbè. Ti piace questa missione? Certo che voglio lavorare. Vediamo che è. Ok. Ah, bella. Guarda un po' Trevor come ha messo gli occhi su... Sulla vecchia. Sì, per fuck's sake. Just let him here. Right this way, gentlemen. Ha, ha, ha. Ha, ha. Get us something to drink with you. Quickly! Hey, good to see you again, Michael. Ha, ha. Ah, questo era il produttore cinematografico. Non è un vod, sono in live. Martina. Martina è un vecchio amore di mine, Trevor. La verità. Martina... è un piscopato terrifichoso che ho cercato a me uccidere. Esatto. Ma alcune persone... Noi non mi preoccupano tanto come ho usato, le persone che vestivano a me uccidere. Oddio Come vuole disfogliare Questo è un favore Ebbè questo Che gioca a calcio Jovière Ebbè se va a prendere Si ammazzano Vabbè riprendiamo i file Li bruciamo Un'arma nascosta Madonna al volo? Ma dove? La paga Quanto si paga? Non ora Madonna come tratti tu moglie Madonna La tratti come una schiava Non parte Andiamo andiamo Quindi bisogna tipo Ah non è il produttore cinematografico? È un mafioso Sono mafia No aspetta 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 E si fammi montare dentro Perché non mi fai entrare dentro la macchina? E si si Ammo arrivo Ammo arrivo Dwayne33 si è abbonato Dwayne33 Ciao bello Grazie Ciao Dwayne Andiamo Ah non ne ho idea perché Che è scritto Vai vai andiamo E comunque Twitch ha fatto una cosa molto più figa Ha messo La moderazione con l'intelligenza artificiale Non so se vi interessa sta cosa Ovvero che se tu banni una parola Per esempio RP Qualsiasi tipo di variante Di RP Twitch la La banna in automatico È ancora in beta sta cosa Ciao Alisina Stai facendo giugarci Na madonna A me siete Ciao bellissimo Come fanno a fare Cace in the joint We didn't agree to a fee for this job So what's it all about? Ok The guy lives well That don't mean we're robbing him But it does mean he's got money to pay people who help him When the time comes He'll do the right thing If he don't Please Let me handle it You don't get a wife like that Without being rich And an asshole Right? Allora grazie mille kangaro Come stai? Ciao bello Stavo a leggere Allina stavo a leggere Che drift Grazie grazie Sto a pianto fatto male? L'anestesia fa malissimo No no A me piace tantissimo Se no non ce la farei a giocarci Ovvio Ragazzi io se un gioco non mi piace Non lo porto Cioè se invece Ok Devo salire sul furgone Andiamo Mamma mia Andiamo piano piano Qua sotto Andiamo Ando sta il furgone No aspetta Non sta qua il furgone E dove cazzo sta? In mezzo alle montagne Devo andare? Ok E come cazzo lo abbatto? Con lo cicchino? Devo abbatte l'aereo Devo abbatte l'aereo Ma dove sta l'aereo? Io non lo vedo Voi vedete un aereo? Io sento un aereo tipo Ah con la mitra Col mitra bisogna batterlo Che pensavo col cicchino? Oddio che figata E dove sta il jet? Io non vedo il jet Dov'è? Oddio io non lo vedo Come su dove sta la città? Dove? Chi è qui Lu? O la madonna? GG Guardala GG Oddio no Mi dissogio Mi dissogio Mi sembra come Oddio Oddio No te prego No te prego Ah ok Ok No Che devo fa? Devo seguire l'aereo Che sta per precipità Ok No Che cazzo fai? Oh Travore Ah mi sono sbagliato Mi sono sbagliato 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 Cazzo Mi sono sbagliato Non è E mi sono sbagliato Cazzo Oddio No te prego No te prego Fammi arrivare Sta cazzo Visuale Che punta Sull'aereo Qua sotto Qua sotto Ok Che devo fare? Devo andare Dritto 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 Ok 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 ce l'abbiamo davanti Ce l'abbiamo là Eccolo Eccolo No E dai Allora posso capire una volta Posso capire una volta Ma due volte di fila Che ti scivoli dalla sella Madonna E dai E ma te Porca Eva Mamma mia Santo Dio Ma ci abbiamo il tempo? No Per fortuna non ci abbiamo il tempo Ok Due volte sono fatta Una scivolata di culo Ok Ehi 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 Viano Ok Dritto per dritto Io Fai che se vola Dov'è le fiamme? Le fiamme stanno qua Ok io Prendi Sarta Wuhuuu Madonna Dritto per dritto Io Terza Terza scivolata Ma spero di no 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 Ci sto attendo Ci sto attendo Ci sto attendo Impossibile Terza scivolata Significa che Sì Veramente Cioè Ok ce l'abbiamo Ok ce l'abbiamo il motore Ce l'abbiamo là Ce l'abbiamo Ok Sta là Sta là Eccolo Andiamo Ok Ottimo Eccolo là Davanti Ma c'è che stessa Non c'è la musica Ah la musica Della Della missione Ok Eccolo Guarda come fuma Yo Wuhuu Wuhuu Vai che se vola Che bisogna fare Elevate Che io devo fare Lo devo ammazzare Lo devo uccidere Oddio Oddio Penso che lo devo Solamente seguire Penso che lo devo Solamente seguire Ok Occhio Che Dio ci aiuti No Che Dio ti aiuta chi Che Ah devi morire Altro che Altro che Altro che Dio Qua Dio ci entra poco Sì Eccolo Perfetto Ok Dove stanno i dati La valigetta Qua Ma che Con Con una spinta Allora Ridammi i dati Ridammi Ridammi i dati Ehi Piano Oh Che sta a fa Power game Oh Rdm Fe l'rp Cazzo Fe l'rp Ha fatto Ah si Ma te lo davo Io Fai l'rp Oh cazzo Non c'ho Maffanculo Andiamo Io La valigetta Intatta Ovviamente Madonna Il costo umano Lo volevo uccidere Volevo ucciderlo Certo Certo Non l'ha pagato Non l'ha pagato Non gli ha dato manco una lira Cazzo Ah non lo so I capelli di Trevor Che hanno passato I capelli miei pure Vabbè Andiamo Lasciamo la zona Che è meglio Ciao Quizzi Come stai? Ok Ok Devo distruggere il furgone Ok Ebbè è semplice Che ci vuole? Lo distruggo Ah qui abbiamo la tannica Sì Ci abbiamo qua Iepiscemo un po' Di Un po' Di sta roba Qua qua sotto Qua Eccola Bella precisa Qua Vai Ok Vai io Via Esplode Dai come puoi Non esplode Dai Gli abbiamo dato fuoco In questo modo Esplode Dai Qua come i film Come i veri film No Non esplode Sì Che esplode Musichetta Tipo da Pompieri Ah no Mo' mi serve Ok Eh scusa A me mi serve La bomba Eh porco Eh porco ladro Ma che fai Oh Ma che cazzo Fa Dio santo A me fa WTM Come si fa A spegni Ste sirene Ok Vai Andiamo a casa De quello Vai Vabbè Io per far prima Ok No 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 Ma che è uscito Un aggiornamento Per caso De solito Fa così Quando c'è Un aggiornamento No Pure L'online Qui si voglio Fa Però non so L'online Come funziona Boh Non ho capito Devo controllare I file De gioco Padre Pio Caldotric Date Si è abbonato Per 23 mesi Allora Un attimo Ah ok Allora Niente Vabbè Ma semplicemente Se è un attimo Bagato Vabbè Penso che Basta che rientro Non devo rifare La missione da capo Credo Ciao padre Pio Caldo Come stai Ciao bello Un bacione Grazie Ciao bello Ciao Giulia Come stai Ciao Matteo Per dopo ci sono Grande Andy Allora ti aspetta Più tardi Tra un'oretta Dai dai Tutto bene Giulia Come stai Ciao Ciao Zubo 99 Ciao bello Grazie mille 6 mesi Grazie mille Spaccare sempre Dalle risate A un metzbacio Metzbacio Metzcor Metzcor Minore Ciao Ciao Zubo 6 mesi Dele sab Grazie mille I pattacca Andiamo Vai Mi saluti Non mi noti mai Ma che dici Mattia Non è vero Che non ti noto mai Non è vero Non è vero Assolutamente No te prego Devo rifarla da capo No devastante Non ha salvato No ha salvato No ha salvato Che sei matto Porco demonio Do capo Ecco perché secondo me Gli ha dato pure una scoracciata Secondo me Un po' gli pizzica l'orecchia Questo Debra Oddio Avevo detto Deborah Debra Te l'ho detto Secondo me Trevor un po' gli pizzica Te lo dico io Ah si si Allora aspetta Che lì ho Sta parolina Non mi piace Molto Eb Trattino Ray Via Già il fatto Che hai scritto Col trattino Denota la tua stupidità Che scheda vi usi Una 40-90 40-90 40-90 E' una madonna Grande manga World Grande eh Se torna sempre Dove sei stato bene E ma qua Il problema Non è che Io non è che sto male qua Il problema qua Ma la cintura esiste Quella B No non esiste Il problema qua Che prima Mi è passato un drum Sulla faccia Cazzo Non lo so Mi è disconnesso il gioco Dio Santissimo Poi non è che dici C'è stata una schermata D'errore Ma me lo fa anche Senza Senza mod grafiche Non è che dici Che le mod Emo vediamo Dai Spero che Dai Ciao vacca arrabbiata Ok piano piano Il mio pc Quanto vale Non lo so Non ne ho idea Devo essere sincero Ma non è il pc Io ce lavoro Col computer Non è che Cioè faccio un milione Di cose Con sto computer Ce n'ho due In realtà Tutta la postazione Completa Sui 10.000 Tutta la postazione Completa Ho fatto un calcolo L'altro giorno Tra simulatore Tra simulatore Cucina E tutto Sto intorno Le 60.000 Più o meno Tra la cucina Le cam Che uso Poi c'ho Altra attrezzatura Che non uso Ovviamente Però Sui 60.000 C'è quello che uso Qui per L'essenziale Diciamo Ecco Per tutto Mi dovrei Buildare un pc Ma te Io Mi dovrei Aiutare A buildare Io non ti posso Aiutare Se vuoi Ti posso dare Il contatto Di uno Che ti aiuta Molto volentieri E ti fa pure Un prezzo Competitivo Se vuoi Se vuoi Ti posso dare Una mano A montarlo A distanza Ti posso dire Come montare Un computer Ma Cioè Altro Non posso Fare Grazie Giulio Mi fa piacere Ma si Si Infatti Ci tengo La chat mia Pulita Precisa Solo che Adesso Devo rifare Di nuovo Sta cazzo Di missione Vabbè Non fa niente La rifacciamo Dai Andiamo Andiamo Posso rispondere A una persona Ragazzi E' importante E' importante Scusate Cazzo Sei ancora in chat Se sei ancora in chat Mi scrivi Per favore Su whatsapp Che ci sei Vabbè Comunque Andiamo avanti Ma te la musicetta A cazzo A cazzo A cazzo Ciao stella Pizze Ma chi è Pizza e penne O pizza Così Pizze Ok Ah c'è Il cazzo duro C'hai Ah no Ah Il cazzo duro Sì la canzone Sì 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 Vabbè Sta missione Che palle Però l'avevo già finita Vabbè dai Rifacciamo Buonasera Giulio Eccolo Ciao Jack Oh Attenzione Jack 22 Sottolineatura 734 Si è abbonato Bella Padre Pio Padre Pio Non me ne frega un cazzo Il padre Pio Ciao Rangzeus Delle marche Marchigiano Ragazzi Se lo paghi Il copyright Non lo puoi Sa Eh ma Chi la paga Il copyright Il copyright De una canzone Costa 4-5 mila euro Se la devo Se devo acquistare I diritti Eh mica È facile Però acquistare Il copyright Non ci avevo mai pensato Sai Ci posso pensare Mo Lo contatto Gli dico Guarda C'ho Sta cosa Riusciamo a venirci incontro Magari Lo contatto No A provarci Non costa niente Magari Mi spara La mille euro Invece Devo vedere Sì 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 Abito ancora Fermo Scusami Non stava qua Ok ci siamo 5 mila euro Per il cazzo duro No 5 mila euro Per la canzone Quella della fisarmonica Con Quella lì Classica Della Sì pieno di sordi Eh La madonna Eccolo 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 Allora qua Perfetto Eh però basta Dai Mo Mo Sei esagerato Dai Su Dai Mo Dai Sei stupido Dai Non so Che dirti Dai Rotto il cazzo Dai Basta Scusate Ma io Sempre Pila Ho di fatto Pila Adesso sono In un'altra Contrata Io E' molto Tocca a noi Vai Andiamo con Trevor Andiamo dritto Per dritto Vai Madonna che cazzo è Una speed run Che cazzo è Madonna Ok Perfetto Dritto 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 per dritto Sperando che regga la scheda grafica Che non me crasha il pc Cazzo Ah se me crasha di nuovo In mezzo le piante Vai 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 Andiamo a prendere un po' d'erba Oddio Oddio Ciao Ciao Rudolf 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 è 92 01 Ciao bello Mi opinione Ognuno C'è l'opinione Sua De che è bianco nero Non ho capito De che Secondo me Red Dead Redemption 2 È migliore E io ancora non l'ho giocato Quindi non so dirti Penso di farla Pensavo di farla Dopo GTA La serie Che me l'hanno consigliata tutti Finora Mi sta a piacere questa Però mai come quel gioco dei pirati Che non mi ricordo il nome Come si chiamava il gioco dei pirati Quello lì dove dovevo andare a cercare Il tesoro Quello lì mi è piaciuto tanto Quella serie lì Che c'era la nave dentro la grotta Che poi dopo è crollato tutto No No Sì Era sempre un gioco tipo questo No 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 Questa qua è una missione del gioco principale Un Charted Un Charted Che tra l'altro mi avete consigliato anche di giocare quelli prima L'uno Il due Il tre Ciao Giulia Grazie No no Non è One Piece Un Charted era Alan Wick Io pensavo fosse tipo John Wick Un gioco d'azione Invece Alan Wick è tipo un gioco Che devi Che devi fare missioni Devi Cioè Un po' una rottura delle scatole Smarmellata Oddio Chi era smarmellata Non mi ricordo Ciao bello Ti vedo in forma Grazie Ciao dottor Oddio Piano 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 Ok Ok Vai Vai prendiamo il pezzo di merda qua Andiamo a prendere l'aereo qua dentro La valicetta dentro Non posso skiparla Ok posso skiparla Perfetto Speriamo che non gracia Se può salvare in qualche modo Così almeno Partita No Non se può Sto a campione Non lo so Non lo so Non seguo Ok dobbiamo Dà fuoco a questo Dobbiamo Dagli fuoco a questo Ok E poi dobbiamo Scappar via Perfetto Ottimo Prendiamo La cosa La tannica Della benzina Qua Ok Ma così Prende fuoco Lo stesso Se io Non gliela metto Proprio addosso Cioè basta che Gliela spruzzo un po' Così penso Non lo so Oh Ma che cazzo Ok Ottimo Dov'hai Ok Andiamo Quello è morto Perfetto Madonna Oh Ma sto mitra è forte Cazzo Pure su RP Lo voglio questo Ah smarmellata Non lo so Quello che è scritto Ah che Ecco dove Ho visto Su Su tiktok Eh ma tiktok I moderatori Sono severi Come giusto che sia Purtroppo Sbaglia uno Punisco tutti Punisco Il problema è che se ti tocca Non so nemmeno come sbannare Perché Mi ha bannati 15.000 Da quando ho iniziato a fare live Ciao cotte Baa Non mi viene giuria Giulia o giuria Ok No tranquillo Tranquillo Ah allora Se non sei Bannato Allora Vabbè Sti cazzi Ah sei stato pure Fortunato Perché io ho detto De bannato Direto Ma che è questo Ti aiuterò A far crescere Il canale Con strategie Di promozioni Efficace Per attirare Il tuo pubblico Contattami Su discord Nome utente Discord James 05 A James Ma fate la pia Ma fate la pia Ma fate la pia Del culo Te mamma Da porca Madonna Mi aiuterai Mi aiuterai a fregarmi Gli stavo Gli stavo per regalare Un bitcoin Esatto Ah dai che è una cosa Incredibile Ma poi C'è qualcuno Che c'è casca Se qualcuno Se questi spammano Sulle chat Significa che qualcuno C'è casca Se no Non c'è senso Grazie Forza milan Ciao bello Come stai Grazie mille 5 mesi Di resabba Grande Grazie 5 mesi Ciao bellissimo Un bacione Grazie Grazie mille Anca buon milov 6 mesi Di resabba E una madonna Ciao bellissimo Grazie Ma si Emo c'è sta rude Ve banna tutti Signori tranquilli Ma su ttok Stanno facendo un lavoro Veramente Ottimo I moderatori Duro No io voglio Anche un minuto di pulita I deficienti Non li voglio Vediamo un po' Che succede Oh Moriva questo Ah trevo Ok Che ha fatto Così Ok L'ha ucciso Però gli ha scopato la moglie Eccola Gigi Lo sapevo Cazzo Amore mio E dai È una bella Infarcita No Dai La farcisci E poi Gliela Riconsegni Non lo so Penso qualche milione Michele Non lo so Tra tutti i personaggi Qualche milione Di dollari Io penso Vai cazzo Perfetto Vai cazzo Adesso È buono O non è buono È buono Sì sì È la prima volta Che gioco alla storia Tu pensa Eh guarda cioppa 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 Questo qua Potevi guidare pure il cane Se non erro No no Tonia Te tacchi al cazzo Tonia Te tacchi al cazzo Questo significa Tonia Te tacchi al cazzo Ma perché me lagga Solo con questo poi Solo con questo personaggio Me lagga il menu Ma perché Ah no ok Non so che è successo Non lagga più Ah sì Può montare Ok Vai monta Vieni 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 Io E come si fa A farlo montare C'è scritto Che può montare No Come fa Come faccio A farlo montare Boh Si può far montare Ah non sulla moto Ah che fa Mi segue Mi segue Oddio È tipo il mio cane Che tipo Ogni volta Che mi allontanavo Da casa Mi seguiva sempre Mi seguiva E poi quando partivo Si metteva lì E piangeva su E piangeva Dio santo Eccala 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 E lo sapevo Lo sapevo Ma uno più deficiente De me Guarda Non lo so Non esiste Allora First First Ascendant No No Io I souls Non li so Giocare Ragazzi Ma Penso Che se Se me ci metto Oddio santo Fermate 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 La voglio io Con la macchina Fermati La voglio io E no Mo non la voglio più E mo non la voglio più Cazzo Mo si è forata Ma addio santo No Non mi dico Che ci ho Sono ricercato Adesso Che coglioni Mamma mia Che palle Ma io posso andare sempre A prendere la M Cioè Tipo le missioni Vado su B Vado su M Che cazzo Va bene ragazzi B o M Veloce B o M Oh E dai E dai Oh Pio la Ferrari Pio Allora M M M M B M B Andiamo con Con M Vai Andiamo da M Da Michael Vai Andiamo da Michael Vai Elevate Ok Ancora con il casco Come quando facevo Lo bustino Mamma mia Sempre col casco H24 Ciao gatto Ciao gatto No ti prego Ma perché crasha Qual è il problema Ma qual è il problema Non capisco E niente Mi sa che oggi Non mi vuole E ci vedo col casco Si A far postino Poi Una meraviglia O è troppo pesante Non lo so Ma c'è qualcosa Che non va Perché non capisco Ciao diablo Beh si Le mod voglia C'è questa qua Che è una meraviglia Natural vision Evolved Ma te ma come fai A leggere tutte le chat E ce l'ho tutti insieme Ce l'ho Prova a togliere Le mod grafiche Eh ma se dopo Che cazzo è Dope brutto Si si non mi da niente Nemmeno un codice d'errore Zero Comunque ciao diablo Come stai Aprirlo come amministratore E mo vediamo Se mi da ancora problemi Allora apro si Come amministratore E già due volte stasera Mmm Non c'ho Minecraft Non c'ho OBS qua Ce l'ho su quell'altro pc OBS No no Impossibile Se avessi avuto Pure OBS Installato Sarebbe stato un casino Ciao Mario Ciao Tutto a posto Tu Io che dico Ah tutto a posto Diablo Mo me apre un server Hola Hola Come sto apri un server De Minecraft Poi di RP Ciao Sadi Categoria Vabbè ma su kick Ma chi Me singula Su kick Sti cazzi Mi fa piacere Perché su youtube Siamo quasi 100 abbonati Quasi Tra poco abbiamo raggiunto I 100 abbonati Su youtube Mi fa piacere Allora Andiamo su M Ah questo c'è la super Ok E vediamo Al momento Ho trovato un socio Che è super 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 bravo Sa fare tutto da solo Tutto da solo Però in futuro Vediamo C'è più che altro Un test il mio Per vedere in attimo Quanta gente Gioca Quanta gente può entrare Effettivamente Vediamo Eccola là la M Ce l'abbiamo Cazzo Mi stavo a preoccupare Perché non vedevo la M Ho detto Ma do cazzo sta Eccola No no Ho aperto a tutti Altro che Survival Ho aperto a tutti Ok Poi facciamo Le skate work Facciamo le cose Facciamo Ci sarà anche Lo shop online C'è lo shop dentro il gioco Tutto ci sta Metti l'opzione Che se può girare Live in orizzontale Non Non so Come si fa Ci sta l'opzione Che posso fare Sia live in orizzontale Che verticale Non penso O in verticale O in orizzontale Credo Però se vuoi Può venire su Twitch Abbiamo una donna O in orizzontale Non c'è nulla a dire di questo. RON! RON! Sono tornato! Come troppo! Travi il mio caffè! Sì, assolutamente! Cosa è questo? Voi scoperto? Buon negozio, partner. Buon ragazzo. RON, questo è Michael. E questa è Patricia. Ha ha! Cazza! Sì, è una bella donna, però è un po' vecchiotta. Quanti anni ce l'ha secondo voi? Secondo me è una cinquantina. Dai, cinquanta. Sui cinquanta. Cinquant'anni. Ma che dodici anni? Una cinquantina ci avrà questa. Sessanta addirittura? Beh, io la voglio trovare una così che arriva a sessanta anni. Sì. Me la sposo. Eccola la Meriwether! Ma noi già l'abbiamo fatta. Ha 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 ha. Ha 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 ha. No, 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 non tu. Sit down. Ero un uomo. Sì, no. Guarda lei, ok? È una buona donna. Andiamo, Ron. Buonasera, Michael. Come on, andiamo! Ma non l'avevo? Non l'ho già presa? Lo sto prendendo in giro. Ma lo prendono per il culo. La Meriwether già e noi l'abbiamo fatta. Che cazzo sta succedendo? No, forse ci hanno... Non ho capito. No. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ora, andiamo qua, vediamo un po'. Madonna. Già lo so che bisogna guidare la macchina. Bisogna guidare la macchina, vero? Cioè guidare l'aereo. Il problema è che per guidare sto cazzo da aereo io non sono incapace. No, te prego, no, te prego, dimmi che non devo guidare, te prego. Te prego, dimmi che non devo guidare. Porca troia, lo sapevo. Lo sapevo. Ma io non so bono per guidare, cazzo. Qua prendiamo una bella ringorsa qua. Ok. Io non so bono! Lo so tutto bene tra piano, perché? Io non so bono, signori. Cazzo. Ok, piano piano. Ok, prendiamo velocità. Devo prendere tipo velocità. E poi qua il problema è il vento, che c'è pure il vento qua. No, cazzo, occhio, vai su, vai su, vai su, vai su. Cazzo. Andiamo. Dai, cerchiamo di traiardare, di farla al primo colpo, dai. Ah, devo pure volare a basso, quindi. Vabbè, questa qua è una meraviglia, eh. Una roba fantastica, meravigliosa, eh. Ancora più basso, porca puttana. Ma ancora più basso è qualcosa di incredibile. È impossibile stare più bassi di così. Chi è quella nave madre là? No, ti prego, no, ti prego, no, ti prego, no, ti prego! No, ti prego. No, ti prego. Morto! No, ti prego. No, ti prego. Non lo so perché Ma poi solo oggi eh Ma c'è qualcosa che gli dà fastidio Perché se no non si spiega Toh manco gestione attività Vabbè devo riavviare il pc Vabbè riavviare un attimo il computer Vediamo un attimo che succede Ma te cosa ne pensi del cambiamento Ma stai crescendo per finta per il content Ma che sto crescendo per finta per il content Lo apro come amministratore adesso Lo apriamo come amministratore Non so come si fa per aprirlo come amministratore Ma lo apriremo come amministratore Non lo so Letizia Il riscaldamento Il riscaldamento globale Non lo so Io una volta stavo sotto casa Di una Stavo sotto casa di una A una certa Arrivano dei tipi La vicina arriva lì Ma stavo lì Stavo fermo da 5 minuti Con l'aria condizionata Stavo dentro la macchina Con l'aria condizionata Stavo Stavo telefonando Stavo a fare una telefonata Da 5-10 minuti Arriva una Mi bussa sul vetro Abbasso Salve dimmi Mi dica Serve qualcosa? Così Poi stava così Stava così Stava questa Stava così La smettiamo? La smettiamo di inquinare? Mi stai Mi stai facendo respirare i tuoi gas di scarico La finiamo? La spegni questa macchina? Stavo così Signora ma Sto telefonando da 5 minuti Eh non mi interessa Tu qui sotto Non la accendi Non la tieni accesa la macchina Io sto respirando L'aria sporca per colpa tua L'aria inguinata per colpa tua Cioè A questo gli dava fastidio Che io stavo a telefonare Con lo telefono E' incredibile Alla fine la sono mannata a fanguro Mi ha detto che chiamava le guardie Mi ha detto E chiamale le guardie E chiamale Porca troia Ora per legge Non si può Non posso per legge Non me posso fermare Su un posto dove posso fermarmi E fa una telefonata D'estate Con l'aria condizionata Con l'aria condizionata accesa Ma il motore è acceso Boh Non si può stare Con l'aria condizionata Accesa Come no? Follia Veramente Si può stare Con l'aria condizionata Accesa Fermi In macchina Per una Per una chiamata Ma? Ma no la sosta Una fermata Ha dato ferma O in sosta Cioè io praticamente Non posso stare fermo Su un'aria Ma vabbè Vabbè Non lo sapevo Allora Abbiamo detto GTA praticamente Grand Theft Auto No Non ce l'ho Perché qui non c'è Rockstar Game Launcher Perché GTA non c'è? Proprio L'esecutivo Questa è Questa è Ok Ok Vediamo se Se funziona Se funziona Secondo me c'è qualcosa Che gli dà fastidio Tipo Al gioco Mi è successa Tipo Quattro mesi fa Tre Quattro mesi fa Tre mesi Penso Tre mesi Tre mesi fa Non lo sapevo Con l'aria condizionata Ma magari c'hanno 904 Hanno la 416 Uno mi ha detto Su Instagram La 416 Lo sapete Garto Vediamo 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 Andiamo Storia Ciao 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 Manuela Ah non lo so Cionaldo Non lo so Vabbè Cioè Ci stanno cose che Meglio non chiedersi nulla Meglio non chiedersi nulla Andiamo Accesso alla moneta Storia in corso Ah tu pensa Pure la storia Ci mette tempo per caricare Brostarse alle 2 Porca troia No te prego Non mi dico che devo tornare là Che coglioni Stanno tenendo un profilo Passo E quindi Non ho capito Devo andare per forza Da D allora Quella è un'altra missione Ancora Devo andare per forza Da D Vabbè Non ci ho capito nulla Signori Tranne che dovevo prendere L'aereo Intercettare Un aereo Che c'era la nave La Maryweather Che c'era Le informazioni Cose nuove Boh Non ho capito Sì che mi arrivano i commenti Perché? Però basta che non spami Sennò te devo bannare Non friggere il pc per ricordare Ma che dice No no Ma che frego Ma non è vero Che frego il computer Ma che roba Non ho capito Non ho capito Ma per il trasloco Non fa più live Oppure perché hanno litigato Ma chi? Ma che? Il soggetto Chi? Che? Non voglio parlarne Cioè mi sono rotto Li coglioni Sempre quello Sto a D Basta no? Andiamo La sicurezza Ovviamente chi è che ci deve pensare La sicurezza E il sottoscritto Per forza Andiamo Buonasera Madonna Angazzato nero È bello muscoloso Questo Enrico Enrico Signori Sta facendo Delle cose Che non condividiamo Io E mi padre Forse 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 per la vecchiaia Forse Non lo so Comunque Stai fatto che Non Vogliamo un attimo Cioè Al momento Deve risolvere Delle cose Non con noi Ma con Cioè Sta in una situazione Un po' particolare Quindi non E che non possiamo Aiutarlo Prodobini Oh Che ti devi dire Un donante Oddio Che è Ma che cazzo è Devo ammazza tutti Che devo fa' Ma devo ammazzarli Che devo fa' Ma devo ammazzarli Che devo fa' Devo localizzare l'auto Ma l'auto quale No E porca Troia Però Ma questa Non è in stelta Andiamo Ma è stelta No perché Quello là Mi sta ammazzando Qual è l'auto Che devo localizzare Ok Questo è morto Guarda un po' Io Ah Si è rabbagato Il gioco Ah Si è rabbagato Il gioco Ok Ok Adesso mi da l'auto Adesso la vedo Andiamo piano piano Ho capito Capito Ah La posso fare In due modi In più modi La posso fare Ma che è un film Oddio C'è Franghino Franghino Oh porco Oddio Che fai Oh testo Di cazzo Ma io faccio parte Della scena Ma faccio parte Della scena Oh E me era un attimo Intrufolato Madonna Vabbè Ma va Ma su Chiamalo gatto Ciao E io sono Nel cattivo Della situazione Signora Vieni via con me Signora Scusa me Scusa me E vieni con me Signora La signora La porta con me La porta con me La signora Sì La porta con me La signora C'è pure una bella figa E zitta E zitta E zitta Guarda là Oh te figlia De puttana Che cazzo fai Oddio Guarda sto stronzo De merda Oh Se potessi mangiare Le palle Un figlio De figlia De troia Tu non fai Di film Tu fai la puttana De lavoro Scendi dall'auto No niente Questa me la devo portare Devo ammazzare pure questi Devo ammazzare E vaffanculo Per favore Ok Dove vanna Che bella Ma vaffanculo Cazzo è volato per aria Ok Ok Così almeno Sta zitta Per sempre Andiamo Adesso fatta Volare Dalla macchina Cazzo E questo dovevo Farlo con Con l'ex mia Quando rompeva I coglioni Pulsante Via Io Fuori dal cazzo FAAH Perfetto Perfetto Qua Ah boh Fallu fa Non mi interessa Ormai il casino Non è più Roba mia Vai GG Però cazzo Lo volevo portare pure con me Oh Chirpe Tu chifo Trever È F*** Se 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 O Devin Weston Master Orgazale La Orgasm Quelle è Lammar Davies Lammar Davies Lammar Davies Chiamo Lo Lammar Che 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 Ok Gigi Ma che capelli hai messo Non ho capito Dove? Sul personaggio? Eh, a righe Buonanotte Luca Buonanotte Andrew Che bella righe Cioè, glielo scelto io Andiamo, vai Andiamo da Michael, signori Penso che questa qua sarà l'ultima missione Poi dopo andrò a giocare a Brawl Insieme al grandissimo Andy Andiamo, io Ultima missione Ah, quella di prima è Speriamo che questa non lagga Perché se no è un casino Vai Puta madre Puta madre Buonanotte 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 a tutti Ciao Lolo Soul Ciao Ragmar Ah, voglia di putta madre Questo Ma che vuole da me Ma che vuole da me questo Ma ridaglie Senti Scendi un po' dall'auto Ma che si è ridotto il cazzo Cabron Chiamo il taxi Ma che chiamo il taxi Ciao Lolo Lo devo ammazzare? No, no Che ammazzo Ho sceso solo Sì, sì Continuo la live dopo Un'oretta sicuro Continuo Due ore Non lo so Se faccio due orette Di Brawl Poi vediamo No, in vero Non ci tornerò Più L'ho detto GTRP L'unico server Forse che ci torno Su quello De Legends Ma Molto probabilmente Aprirò il mio De server Quindi Non Rp Signori Io non gioco più Rp Ormai da un anno Qua c'è Un anno E sto molto meglio Ma La voglia Quel gioco di merda Wey In smogging La facciamo Sta missione Speriamo che non lagga Dai speriamo Non lagga Dando questo dorme Desert Outro Alamo Sea All right Well I'll hit you If I find Anything Absolutely Oh Hey Trevor's got his wife Trevor's got his wife No The Mexican La moglie La moglie Mexicano Nothing Nothing to say About that Run Run I'm back Come Trevor Ha dormito Un'oretta Solo Ma dorme Sembra Sembra Gli uomini Quello Patricia Listen Beautiful And I'm sorry About everything That's happened And I Can't guarantee No harm Is gonna come To you Might have to Chop you up Into little pieces Before spraying Your pulp Mess down The drain But I really hope It doesn't come That I appreciate Your honesty You are a good Man I can see That You need your eyes Examine Ragazzi Se volete Risponde Voi Perché Io Non Non Rispondo Ok Ok Dove Profilo basso Sì sì Rispondete voi A delle cose Perché io Non rispondo Ma pure La roba è del rico Se volete rispondere voi Perché io Non Andiamo Vai Io andiamo Dobbiamo andare Sull'aereo E dobbiamo Andare a prendere Sta roba Speriamo che non Grascia più Adesso Sta missione Se no Un casino La bottiglia Ci siamo Dovrei prendere Borracce De De Prozis Borracce De Prozis Siamo lunedì Sarà Una giornata Bella Intensa Lunedì e martedì Sarà Super Intensa Tutta la settimana Non riesco A prendere Nemmeno Un giorno Andiamo Andiamo Prendiamo Sto cazzo Eri Andiamo Si si è la storia La storia Si buzza oggi Profuma domani Oh è una meraviglia Guarda Madonna come profuma Andiamo Però qua devo volare Basso eh Io però Ragazzi non so volare E' quello il problema Vai Io non so volare Eh porca Puttana Ok Ma perché non va Ok Piano piano Perché stanotte Mi sono sognato ieri Stanotte mi sono sognato Tipo gli elicotteri Che volavano Non lo so perché Mi sono sognato Che volavo Cioè che guidavo Un elicottero E che andavo A far vacanze Per una vacanza Una vacanza Prendevo Prendevo gli elicotteri E andavo Andavo in vacanza Ero pieno De figa Ho fatto sto sogno Un po' strano Però Non lo so perché Si è una donna Quanti sordi c'ho Sono un scicco Sì ma come fai A rimanere Sul terreno Che è difficile Ma spero che non ci sono missioni Dove devi sparare Dall'aereo Ma comunque È rilassante Guida L'aereo Il problema è quando sali Troppo su Che vai Cioè L'aereo inizia A perdere il controllo G No non si può togliere Vero il carrello Che cazzo è Perché Ok devo stare Attendo la base militare Qua No qua non è facile Oddio qua erano i gampi Di droga Ok Io non ci posso andare Perché è la base militare Quindi devo fare Tutto il giro Per forza Ok andiamo Si vede un po' Che dopo Me intercettano Me fanno Me fanno Me fanno il culo Solo che quella madonna Corre come Come non mai Madonna come corre Mi ricordo Il 2002 Sì Cazzo Piove pure Madonna Con la pioggia Una meraviglia Una meraviglia Guida con la pioggia Pioggia Temporale Furmini Porco demonio E che ieri Porco addio Dai no Non ce credo Dai Ben arberello De merda Scusate Non volevo Queste mia Ah ok 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 Perfetto Siamo qui Devo stare attento Pure all'arber Devo stare attento Guarda 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 Io non sto facendo niente Come mi abbasso troppo Dopo Ci stanno i venti Guarda 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 Vado su Grazie 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 mille bellissimo Come stai Grazie 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 Non proprio Questo aereo È molto meglio Di tanti altri Per esempio L'elicottero L'elicottero Mamma mia Che palle Guida l'elicottero Proprio Quello è proprio Difficile Proprio L'elicottero Dove devo andare Cioè non è che Ok Mo piano piano Stiamo assorvo Eh allora Che cazzo è Dammi una macchina Se devo volare così Allora Faccio prima con la macchina Voliamo basso ma Quanto basso Perché se volo troppo basso Poi dopo è un casino È un casino Sì è Ok Ok tra poco 3 2 1 Ah Dio santo Ok Ok L'aerro agricolo Dell'89 Il cielo E mo che devo fare Mi devo avvicinare Tipo Al carico Tipo di Devo andare sopra No? Posso andare sopra Tipo Il problema è questo Porca puttana E non è che è tanto veloce St'aerio Come faccio A mo avvicinare sopra Non posso Cazzo Mo ci abbattono Con i missili Noni 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 Allora Piano 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 Allora Devo entrare dentro Ma che cazzo dici Come faccio a entrare dentro Come faccio a entrare dentro È impossibile per me Entrare dentro Non si può entrare dentro Non ci entro Non ci entro Oddio Si vabbè Nei migliori Manco nei migliori firme D'azione Ma neanche nei migliori firme D'azione questo Che cazzo è Ok Meno uno Attenzione Qua l'ha caduto Oddio le macchine Guarda le macchine Oddio Cazzo Ok andiamo Cazzo Cazzo Perfetto a pennello Proprio Vai Io pilotiamo Sto cazzo D'aeroplano E lo sa guida Oddio Dov'è che stiamo A terra Oddio 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 No 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 Stiamo andando a picco Ok Riattrizza Materia Riattrizza Ok ma abbiamo perso il motore Purtroppo Non lo so C'è sta un danno al motore C'è Dio Che sarebbe Ma che cazzo Gli devo fare Adesso Che glielo devo fare Devo salire Dove Ma come Non ho capito Devo salire dove Usa un altro gioco Sto giocando a questo Non me ne frega un cazzo Devo volare alto Ok volo alto Allora Io Ah se devo volare alto Io volo alto Ancora più alto Ok qua basta Addirittura Sulla luna Devo andare Ok Ok Gli vogliamo sopra Questi Guarda Mi sembra tipo Un Mac Guy Vero quelli lì Come si chiama Mac E che è più Più alto De così Non va Signori Più alto De così Impossibile Ok andiamo dritto Per dritto Adesso Cazzo Ma l'aereo E' quasi E' quasi ingestibile Noi stiamo a volare Tipo sopra Ancora Ma non è semplicissima Sta missione Lugone Grazie 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 mille Bellissimo Viva gli arosticini Sempre sempre Gli arosticini Oddio Attento Che devo fare adesso Devo uscire Salto Via Abbandona Abbandona l'aereo Corri Corri Esci Esci Corri 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 Oddio Ok E adesso che devo fare Dove devo andare No Che cazzo Lo so combinato Oddio E no Adesso Ma non dovevo Ma non è Ma è un errore Q e Q Ok Dai mi sono sbagliato Dovevo Vabbè Ma che è sta musica Atterriamo Co sotto Non è Ma ci posso pure morire No Non credo che ci posso pure morire Non credo C'è la madonna Altro che Me so zoppato Vabbè GG Vai Missione completata Una piccola turbolenza Una madonna Una madonna Cazzo GG E questi Si possono pure Conquistare Questi Ron Vediamo un po' Ron Che dice Infatti dopo la faccia Direttigliani Ok Ok E Mose Dobbiamo andare Dobbiamo andare A prenderne noi Vabbè Dobbiamo andare a recuperare Praticamente la prossima volta Dobbiamo andare a recuperare Le armi O recuperare le armi O Andare a parlare con i federali Quindi la prossima volta Andiamo dai federali Quindi da B La prossima volta Andiamo a vedere Signori Per oggi è tutto Da GTA E da Matakese Noi ci vediamo Alla prossima Penso adesso stacco Perché vado a giocare Cioè stacco da GTA Però resto in live E andiamo a giocare A Bro Stars Insieme al grandissimo Andy Andiamo Alta Esci Vamos Ok Vediamo un po' Andy se c'è Solo che Questa missione È durata un bel po' Vabbè Adesso vediamo se c'è Allora Perfetto Però così almeno Non ha Non ha laggato Cioè non è che non ha laggato Non è crashato Con l'amministratore Infatti voglio ringraziare Pure i ragazzi in chat Che mi hanno dato una mano Perché Se avvio con l'amministratore È proprio Beh è andato bene Allora Signori Noi ci vediamo alla prossima E vi saluto Ciao Ciao